Renalina comanda questi atleti L'applauso del pubblico, fattiamo sentire il canale di Peschera Ricordiamo che le altre batterie partiranno ogni 2 minuti Ogni 2 minuti iniziamo ogni week Quindi dopo 2 minuti iniziamo il camp Grazie per favore Grazie per favore Vai vai ragazzi, vediamo la legge come fare il blu rotto Roto la base Grazie per favore